Come è avvenuto per tutte le applicazioni all'interno della nuova Creative Cloud, anche Photoshop CC si è pesantemente rinnovato in termini di funzionalità e di prestazioni. Vorrei farvi vedere alcune di queste novità. Partiamo per esempio da questo scatto. Quante volte quotidianamente abbiamo necessità di aumentare un po' di nitidezza e di contrasto sulla nostra immagine, sul nostro soggetto, cercando di migliorare proprio la nitidezza dei contorni e del disegno dell'immagine stessa. Sappiamo però che anche questo è un aspetto problematico perché tipicamente magari i filtri di contrasto aumentano anche un effetto di disturbo, soprattutto sulle tonalità più morbide. Oggi introduciamo dal pannello dei filtri, andiamo in nitidezza e scegliamo un nuovo filtro introdotto con Photoshop CC che si chiama nitidezza avanzata. Innanzitutto è un filtro che già di per sé stesso si presenta in maniera un po' diversa rispetto a come siamo abituati. È una finestra che noi possiamo ridimensionare a nostro piacimento al fine di poter ingrandire a nostro piacimento l'area di anteprima. E questo nuovo filtro è veramente molto potente perché grazie alla facoltà che abbiamo di intervenire sul fattore, sul raggio e sulla riduzione del disturbo causato quindi dal filtro di contrasto, abbiamo la possibilità di ottenere dei risultati che sono assolutamente apprezzabili rispetto al passato. Questa è l'immagine come era in origine e questo invece con applicato questo filtro di nitidezza. Intervenendo poi su raggio, su per esempio intensità, sul fattore e su altri parametri che vanno a intervenire selettivamente, per esempio su come la nitidezza viene applicata all'interno delle zone di ombre, le zone di luce, il risultato è veramente eccezionale. Quindi otteniamo un maggior contrasto della nostra immagine senza tuttavia andare a rischiare di rovinare le tonalità più mobile come quelle per esempio del viso della modella in questo caso. Senz'altro un filtro che avrete occasione di usare veramente molto spesso proprio per la qualità che vi restituisce. Un'altra situazione, ahimè, molto frequente, io stesso a casa ho centinaia di foto che presentano questo problema, è il caso in cui abbiamo fatto uno scatto e inadvertitamente la nostra fotocamera ha subito un movimento proprio all'atto della ripresa, tale per cui quindi l'immagine risulta mossa, ma un micro mosso, quindi un movimento impercettibile che però compromette in maniera drammatica la qualità della nostra immagine. Quante volte può capitare una situazione del genere? Ci viene un colpo di tosse, una rafrica di vento, un tremolio del tavolo dove abbiamo poggiato magari la macchina fotografica con lo suo stativo, insomma le situazioni ahimè sono veramente frequenti. Guardate questo nuovo filtro di Photoshop come può porre rimedio a un problema così frequente e soprattutto anche così difficilmente risolvibile. Ancora una volta andiamo in nitidezza e scegliamo riduzione effetto mosso. Ancora una volta anche in questo caso avviene l'apertura di quello che è quasi un ambiente di lavoro all'interno di Photoshop in cui abbiamo un'area, come vedete, dove noi possiamo posizionare una parte dell'immagine che vogliamo far sì che Photoshop analizzi per capire e analizzare quale sia stato il movimento che questa immagine ha subito al lato dello scatto. Possiamo quindi andare a determinare aree diverse rispetto a quelle che lui ha scelto. Nel momento in cui quindi, e come avete visto, avviene il processo di analisi, guardate semplicemente anche selezionando anteprima che tipo di lavoro Photoshop mi restituisce. L'immagine in questo momento, quindi rispetto a come era precedentemente, appare perfettamente nitida, come se invece l'effetto di mosso che c'era precedentemente sia stato completamente annullato. Abbiamo la possibilità inoltre di eventualmente campionare anche più parti della mia immagine, unitamente a quelle che sono già state campionate, per eventualmente permettere a Photoshop di analizzare con ancora maggiore accuratezza quale sia stato il movimento che l'immagine ha subito, in modo da potervi porre rimedio nella maniera che vogliamo. Questo a piccola anteprima che stiamo vedendo qui, può essere anche se volete strappata dalla sua posizione, in maniera tale che possiamo andare, prima ancora di applicare questo filtro, ad esaminare i particolari che saranno oggetti di questo intervento, al fine di verificare se effettivamente il filtro stia funzionando a dovere o meno. E, come vedete, possiamo aggiungere punti di campionamento al fine, ripeto, di ottimizzare e di rendere ancora più selettiva e ancora più soddisfacente l'operazione di analisi da parte di Photoshop per rimediare a questo grave problema. Quindi, è un strumento di riduzione del mosso veramente, veramente molto potente. Una terza funzionalità, che sono certo anche questa farà veramente felici tantissimi di voi, che spesso e volentieri si trovano magari ad avere delle immagini, magari anche a una risoluzione relativamente bassa, oppure magari di dimensione molto contenuta, e che devono necessariamente cercare di ingrandire queste immagini. Bene, oggi abbiamo un nuovo algoritmo che permette di fare l'up sampling, quindi il ricampionamento verso l'alto delle nostre immagini, cercando il più possibile di contenere anche il dettaglio dell'immagine stessa. Vediamo di cosa stiamo parlando. Ancora una volta, in questo caso, da questa immagine, andiamo in un comando storico di Photoshop, che è dimensione immagine. Dimensione immagine, adesso anche qui, è completamente ridisegnato e rinnovato. Al di là del fatto che, come precedentemente, anche abbiamo visto nei filtri che abbiamo visionato poc'anzi, anche questo ha una finestra ridimensionabile che mi permette quindi di avere una visualizzazione dell'anteprima della mia immagine su cui sto andando ad intervenire, del tutto modificarli da parte mia. Ipotizziamo che io voglia, per esempio, ingrandire questa immagine del 200%, quindi decisamente più grande rispetto a come è in origine. Sappiamo benissimo tutti quale sia il problema che avviene. È quello che sostanzialmente stiamo vedendo adesso, cioè l'immagine tipicamente ingrandita tende a perdere di dettaglio. Ma oggi, all'interno di Photoshop, abbiamo la possibilità di utilizzare diversi algoritmi quando si tratta di ricampionare la nostra immagine, affinché permettono, come in questo caso, un mantenimento, per esempio, dei dettagli in fase di ingrandimento. Se io adesso scelgo, invece che la classica bicubica, l'algoritmo che abbiamo sempre utilizzato fino a ieri con Photoshop, scelgo Mantieni dettagli in fase di ingrandimento. Potete notare che, rispetto a come era precedentemente, guardate come l'immagine comunque tende a conservare maggiormente un maggior dettaglio rispetto all'algoritmo precedente. Anche in questo caso abbiamo poi possibilità di intervenire su determinati parametri per mantenere comunque la morbidezza dei riempimenti o comunque delle tonalità uniformi e invece mantenere altrettanto un certo disegno in contrasto dei miei particolari. Anche questo è una funzione, senza altro, di Photoshop CC, veramente di cui farete un uso, direi, quotidiano e di cui non potrete assolutamente più fare a meno.